Chi fa politica dovrebbe distinguere e separare i propri interessi da quelli della comunità. Gli sciolti hanno deciso di non avere più un ruolo politico in questo paese, perché non parlano più dei problemi della comunità, ma dei loro guai giudiziari. Hanno abbandonato la politica per una loro scelta. Quando hanno deciso che i loro problemi con la giustizia contano più delle difficoltà del paese. Le indagini, le richieste di rinvia giudizio, il processo in corso, una sentenza di condanna già arrivata, l'origine del procedimento del prefetto che ha portato allo scioglimento del Consiglio Comunale, Chi ha fatto gli esposti? A chi? E perché? Sono diventate queste le loro preoccupazioni. Ma tutto questo non ha nulla a che fare con i problemi dei cittadini, con lo Stato in cui è stato ridotto il paese. Tutto questo ha invece molto a che fare con quanto gli sciolti devono chiarire nelle sedi giudiziali. Sono i loro problemi, non i problemi dei pratorali. I problemi di Prato-la-Sersla, tutti i problemi, hanno invece origine da un solo elemento, uno solo. Questo elemento si chiama camorra. La camorra che si è infiltrata nell'amministrazione comunale. La camorra che ha messo radici nella nostra comunità. Di questo bisognerebbe parlare. Di come affrontare i problemi e di come risolverli. Perché la politica è esattamente questo che fa. E a Prato-la questo non lo fa nessuno. A combattere contro emergenze e disastri sono rimasti solo i commissari. Gli sciolti pensano solo a salvare se stessi. Umanamente è lecito augurare loro che riescano nel loro intento. Ma liberino il paese dalla cappa dei loro guai. Li affrontino da soli. Li risolvano se possono essere risolto. I cittadini non possono farsi carico anche dei loro problemi. Delle loro vicende giudiziarie. Della loro ostinazione. A trasformare un caso giudiziario che riguarda ipotesi di reato dei singoli. In una chiamata in causa dell'intera comunità. Come a schierarsi. O a fare il tifo. Pensiamo ai problemi del paese. Gli sciolti si occupino dei loro. Si difendano davanti ai giudici. La politica non c'entra nulla con le loro pendenze. Dinanzi alla legge.